Ma ben trovati amici radioascolatori, sono Leonardo Delico Pignotti di Facci da Radio come ogni pomeriggio la trasmissione in diretta dalle ore 17.30 alle ore 19 questo pomeriggio diamo il ritorno dai mesi di dicembre, abbiamo fatto gli ultimi app-prodi però torniamo oggi alla palestra Eagle Fitness e qui a fianco a me abbiamo il maestro Max Ratta nonché responsabile tecnico di Pilates e di Sala buonasera maestro Ratta buonasera a te carissimo, ma chiamami Max dai Max, allora ti chiamerò Max beh io Max nel Forion stavamo parlando che tu mi avevi appena detto che sei tornato da uno stage sei stato per un mese e mezzo fuori, giusto? sono stato a Bangkok in Thailandia dove abbiamo fatto un upgrade uno stage di aggiornamento sulla tecnica Pilates come si sa che insegno da molti anni della Pilates Method Alliance in un centro di Bangkok quindi sicuramente è sempre molto molto utile confrontare i diversi sistemi di insegnamento nonché le nuove tecniche apprendere nuove metodologie ma non solo prendere nuove ispirazioni, nuovi spunti da proiettare poi nel nostro lavoro Max, pensi proprio di approdare questo tuo stage formativo molto formativo perché sei un diciamo comunque sia un trainer che durante gli anni ha avuto anche una tua palestra comunque sia sei abbastanza esperto nel campo quindi è sempre una nuova integrazione che porterai diciamo all'interno di questo lavoro Allora assolutamente sì come io ho sempre sostenuto e come sempre sostengo la base deve essere l'umiltà questo in ogni lavoro bisogna sempre mantenere e alimentare la fame di migliorarsi desiderare sempre migliorarsi perché comunque c'è sempre da imparare ecco il mantenere sempre questa propensione a crescere e a migliorarsi fa in modo che noi insomma diamo sempre il meglio il meglio nella nostra professionalità e nel lavoro che svolgiamo con i nostri clienti Max, ci siamo lasciati noi a dicembre dalla palestra Eagle Fitness ho visto che ci sono state nuove introduzioni diciamo perché non è rimasto soltanto la sala pesi e i corsi ma c'è stato anche un entry nel mondo del benessere Sì, allora abbiamo inaugurato a gennaio questa bellissima spa questa bellissima area relax veramente devo dire che è stata molto molto apprezzata dai clienti è come dare torto, è veramente bella dove c'è una classica sauna, grande poi c'è una biosauna poi c'è il bagno turco poi c'è un'apposita area relax con proiettori, musica e filmati a tema, rilassanti sì, devo dire che c'è stata una risposta molto molto positiva i clienti hanno apprezzato e stanno apprezzando a mano a mano che stanno insomma scoprendola vedo molti tuoi allievi che entrano qui nella palestra Eagle e ti salutano tutti quanti Max io ti ringrazio ancora per il tuo intervento prima della tua lezione sono venuto qui a interromperti grazie ancora per la disponibilità e mi auguro che nelle prossime introduzioni nelle prossime intromissioni anzi posso venire qui da te e farti anche qualche altra domanda molto scrupolosa beh, sono io che ti ringrazio ti rubo 10 secondi approfitto per ricordare che domenica questa alla palestra Eagle alle ore 10.30 abbiamo un bellissimo special faremo una special, una lezione speciale di Pilates integrata al posturale di 90 minuti dove saremo io, Laura Neroni e Matteo Infriccioli dove faremo appunto con questa lezione di team in tre sono tre moduli da 30 minuti Pilates Network Intermedio Pilates Network Avanzato con Technique Creative e poi una parte finale di integrazione di posturale con Matteo quindi vi invito veramente a venire perché sarà una bella occasione e per approcciarvi per chi non pratica regolarmente e per chi invece pratica per prendere nuove ispirazioni domenica prossima palestra Eagle ore 10.30 grazie caro l'ingresso sarà gratuito Max? ti rubo anche qualche altro secondo? l'ingresso si pagherà una piccola quota di 10 euro per fare questa lezione e basta niente basta prenotarsi e ringrazio ancora Max Ratta e dalla Eagle Fitness è tutto alla linea diciamo agli studi di Radio R9 e a tra poco facci da radio siamo sempre in diretta qui con la Eagle Fitness beh ho preso un altro membro insomma dell'equipaggio anzi dello staff chiamiamo meglio così direttamente dalla reception Arianna buonasera buonasera beh Arianna ti ho preso diciamo un po' all'improvviso per chiederti soprattutto sei rimasta un po' sconvolta diciamo dalla telecamera e tutto ma siamo tranquillissimi e buonissimi un saluto anche a Marta e a Marco Milani e beh Arianna ti ho fermato diciamo per chiederti se magari in previsione dell'estate avete qualche promozione voi della Eagle Fitness? assolutamente sì appunto per invogliare nuovi clienti anche quelli che già abbiamo a lanciarsi nel mondo del fitness anche in vista dell'estate che ormai è prossima l'ultima promo assolutamente eccezionale è un semestrale a 199 euro senza limite d'ingresso quindi si possono frequentare tutti i corsi che abbiamo qui la Eagle Fitness più la sala attrezzi sempre seguiti dai nostri istruttori ma invece Max Ratta ci aveva detto prima comunque sia diciamo dell'avvento della nuova insomma struttura spa che avete introdotto dentro all'interno dell'Eagle Fitness ma per chiunque volesse insomma diciamo entrare anche a farne parte sia soci e non soci più o meno come funziona? allora assolutamente l'ingresso è previsto sia per i soci che per persone comunque esterne chiaramente per i nostri soci abbiamo delle scontistiche superiori e una volta che si entra in spa potrete trovare una splendida sauna biosauna bagno turco e doccia scozzese quindi massima accoglienza qui alla Eagle Fitness anche dallo staff perché ho beccato una bellissima ragazza mora della diode del giorno insomma Arianna quindi da Arianna è tutto la linea notiziaria locale è bella di Gina Pezzoli buonasera grazie ancora Arianna siamo sempre in diretta qui con la Eagle Fitness con facce da radio tutti i giorni dall'ora 17.30 all'ora 19 ho beccato una ragazza l'ho beccata bionda e per lo più anche bella e simpatica da un pezzo che l'ho beccata perché la conosco da diverso tempo buonasera Arianna buonasera a tutti Arianna che cosa stai facendo? nuoto sta nuotando sta nuotando in realtà non sta nuotando ma si sta sparando penso all'incirca guarda una bella camminata in salita tendenza 10 tendenza 10 tendenza e un'altra si ok beh sta bruciando abbastanza calorie io Arianna la conosco da tempo è qui sul tapirulana tutto dopo di che la riporto anche io a casa è sul tapirulana da un sacco di tempo beh Ari una cosa ma da quanto tempo è che vieni a lei? da diversi mesi però mi trovo benissimo già andavo nella vecchia palestra era bellissima però adesso è ancora più migliorata gli attrezzi sono più belli fai altri corsi oltre comunque sia la sala pesita tapirulana adesso rinizierò però l'ultimo è stato jump e devo dire che è fantastico l'addome ce l'avevo a pezzo il giorno dopo ve lo consiglio no ce lo consiglio ma in realtà no però dai diciamo un piccolo passaggio di incoraggiamento qui è tutta quanta la sala pesi beh che dire la linea tra poco penso per il momento lascio stare Arianna che è abbastanza stremata però continua insomma con il suo allenamento a go go beh e quindi a tra poco Radio Are 9 buonasera a tutti con i nostri amici radioascoltatori di Facce da Radio beh siamo sempre alla Eagle Fitness sempre io in compagnia di Arianna dello staff della Eagle beh abbiamo appena diciamo fatto una perquisizione per la sala pesi e tutti quanti i corsi ma adesso siamo qui nella nuova apertura appunto nella SPA nel vostro centro benessere Arianna proprio qui all'ingresso cosa ci sai dire insomma come ci introduci allora abbiamo pensato appunto all'apertura di quest'area benessere perché comunque dopo ore di sport è anche bello trovare un attimo di pausa rilassante anche perché non so se tutti sanno che comunque la SPA a livello di sauna biosauna e bagno turco comunque si hanno degli effetti benefici sulle articolazioni quindi un effetto anche tonificante drenante quindi con il fitness è perfetto insomma una coppiata vincente Arianna io ti chiederai subito di farci una sorta di mappatura magari della SPA e magari incuriosire i nostri amici radioascoltatori a vedere a sentire a vedere diciamo con esattezza tutti quanti i punti che la Eagle Fitness della SPA ci offre certo prego allora iniziando da questa parte allora come entriamo nel nostro percorso benessere troviamo la sauna la sauna che comunque avendo delle sue temperature elevate comunque permette appunto anche chi ha problemi e dolori articolari di chiudersi qui dentro e trovare relax e anche beneficio appunto a livello muscolare quindi questa è la classica sauna che fa sempre piacere anche perché insomma non tutti magari hanno la possibilità di frequentare SPA invece qui dopo la palestra si entra nell'area benessere e ci si rilassa un pochino poi continuando da questa parte troviamo la man che comunque ha sicuramente un ambiente un pochino più umido perché comunque questo ritrova un attimino anche il beneficio dell'acqua sempre mista al calore anche questo ha un'azione soprattutto drenante e tonificante quindi ecco è un percorso che appunto deve eseguire anche un processo proprio fisico specifico quindi dalla sauna passiamo alla man per finire anche la biosauna perché con la biosauna noi permettiamo anche alle persone che magari soffrono un pochino di pressione bassa hanno delle piccole problematiche di comunque accedere e perché no anche un'area benessere con temperature un pochino meno forti un pochino meno importanti quindi qui anche le persone con problematiche possono tranquillamente godersi un attimino di relax mentre di fronte a te vedo una sorta di secchiello esatto perché a fine percorso magari si ha bisogno un attimino di sempre azione tonificante della nostra doccia scozzese che con questo oggetto di acqua ghiacciata appunto ha un effetto di tonificazione anche un pochino sicuramente l'adrenalina risale ecco magari se anche voglia di ricominciare poi perché no il percorso tranquillamente questo a chiusura tutto quanto il calore comunque sia la sauna un po' di fresco esatto esatto assolutamente bene e per terminare poi per i nostri clienti ottiamo questo angolo relax con le tisane che trovate qui per rilassarvi e per concludere ecco qui il percorso con il massimo del relax qui davanti a noi vediamo delle immagini degli sfondi rilassanti esatto che accompagnano un attimino la chiusura sorseggiando magari una bella tisana e ecco così si conclude il percorso benessere che dire io non posso che ringraziarti di nuovo è il secondo intervento che mi fai il primo è stato alla sala pesi il secondo è la spa della Eagle Fitness quindi magari un saluto di incoraggiamento a tutti quanti diciamo per venire per essere incoraggiati a scoprire questa nuova spa vi aspettiamo perché comunque sia sicuramente diamo la possibilità di avvicinare anche all'area benessere anche le persone che comunque non la conoscono molto quindi qui riuscire a trovare un insieme fitness e spa e benessere è una gran cosa quindi vi aspettiamo per provarlo è una buona cosa e infatti incoraggiamo tutti i nostri amici radioascoltatori a dare un'occhiatina maggiore non solo alla sala pesi ma anche alla spa beh per questo qui è tutto io e Arianna grazie di nuovo della Eagle Fitness vi diamo un bacione siamo sempre in diretta qui con la Eagle Fitness vedo Tremaroli che mi sta entrando alle mie spalle quindi un altro tuo allievo Italo della Eagle Fitness senti ma qui con noi abbiamo un altro allievo appunto Stefano cioè allievo comunque sia frequente la Eagle Fitness che fai Stefano Salapesi? si 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 Salapesi seguito da Italo e dagli altri collaboratori e sempre trovato benissimo ma Italo come procede diciamo l'allenamento pomeridiano qui a Eagle Fitness? come potete vedere abbiamo una sala gremita tutte le persone che si allenano quindi penso sia un buon poveriggio ma qui dietro alle mie spalle appunto ho un cartellone che dice promo 6 mesi 199 euro beh con questi 6 mesi comunque sia cioè si tratta di questa promozione secondo te da trainer Italo in 6 mesi che risultato può raggiungere comunque sia un assiduo frequentatore? si possono raggiungere buoni risultati l'importante è la costanza come in tutte le cose come in tutte le cose l'importante è la costanza tu Stefano invece da quanto tempo è che frequenti la Eagle Fitness comunque sia quali risultati obiettivi hai raggiunto o vuoi raggiungere? allora guarda io insieme a mio fratello è da ottobre che siamo qui e ti dico la sincera verità se sei seguito da persone veramente valide come di fatto ho trovato qui con costanza e impegno raggiungi risultati abbastanza importanti risultati ti senti meglio a livello atletico a livello estetico e con tanta costanza e con tanta professionalità che il luogo giusto è questo qui lo trovi dappertutto beh infatti si può notare la differenza perché vedete appunto 200 kg di massa muscolare in confronto di 15 grammi di massa muscolare quindi è proprio è inesistente però io non la frequento la Eagle Fitness ma vi prometto che la frequenterò beh Italo non posso che ringraziarti allora del tuo intervento come trainer mi auguro di poterti ritrovare le prossime volte magari per sbizzarrirci e fare qualche altra domanda consigli per darci un buon allenamento e per invogliare tutti quanti a venire all'Eagle Fitness venite all'Eagle Fitness e vi seguiremo come come se fosse che vi posso dire noi seguiamo tutti alla stessa maniera dal ragazzo che magari che abbiamo qui che preparano le competizioni a magari al ragazzo che vuole avere una parvenza di fisico californiano beh allora attenderemo con anzi ai prossimi risultati e restiamo aggiornati con la Eagle Fitness nel frattempo la linea a Radio Tech Lab un salutone grande anche a te Stefano ciaoone ragazzi